Luca Di Procolo, dei giovani democratici, una manifestazione sportiva che meglio di così non poteva andare? Assolutamente no, siamo veramente contentissimi del risultato che abbiamo ottenuto. È stata durissima perché è stata una settimana ricca di avvenimenti, ricco di sport. Siamo partiti lunedì con un torneo di calcio a 5 e con il quadrangolare di pallavolo fino ad arrivare a domenica che abbiamo concluso prima con un torneo di basket 3 contro 3 e poi con una manifestazione finale di danza veramente stupefacente, bellissima. È un momento non soltanto di sport ma anche di aggregazione sociale per tanti ragazzi che hanno partecipato. Assolutamente, lo scopo era proprio quello, aggregare quante più ragazzi possibili. Secondo i nostri numeri si sono esibiti circa 500 atleti in tutta la settimana, quindi siamo più che contenti di questo risultato. e poi lo spirito era proprio quello, partecipare ed essere lì tutti quanti insieme per divertirci e per fare sport.